non posso far ricordare che c'è questo io l'avevo tagliato lì e tutta la sita di lì era dietro qualcosa la nera e il tero mi ha affittimato perché sennò non so troppo è la casa che c'è di un mio vicino a fare il lavoro a me sta aiutando mia madre questa è prima mi commissioniamo ora devo stare rastrellando perché io ho tagliato le piantate un po' perché se non si può essere quindi dovrò che non fare il lavoro e dovrò non fare il tempo di compro mia madre e decidiamo di continuare a vivere non so se oggi ce la facciamo facile di qua a continuare tagliato qui vedete qui ho tagliato io prima l'avevo tagliato qua qua su e questo lato qui l'avevo asfoltito anche qui qui e qui se no i rami questi rami arrivano fino a qua mancavano due centimetri al bordo del marciapiede qua dal lato se dovete bagliare i miei cani ok ragazzi vi ho visto nei video non so quanto dirai quanti giorni dirai io ho fatto con mio padre qui l'avevo asfoltito e il mio padre ha rastrellato e c'era di farlo a modo e la casa abbiamo vicino il dottore è un dottore che viene ogni tanto qui con la sua famiglia e lui dovrebbe venire a Pasqua questa casa è a due piani questo è piano a terra e entri e c'è una scheda a chiocciola e poi fino al piano di sopra e ci sono le altre stanze sopra io devo aiutare mia madre mia ci vediamo nella prossima clip dunque ho finito il lavoro non c'è bene così ho fatto il lavoro di là la parte di là come deve essere in questo video e devo riportare la macchinetta al posto in casa mia no di per la casa in gazebo vedete quel gazebo là voglio mettere i denti perché domani pomeriggio devo tagliare l'erba e fare il pezzo di qua se ce la facciamo insieme a mia madre mi aiuto cosa facciamo prima prima che arriva il dottore che doveva arrivare la prossima settimana conosce Pasqua non può entrare entra non entra entra non entra entra non perso proprio a few moments later vai a letto vai a letto vai a letto vai a letto adesso no no ma vai a letto tu scusa se non sono stanco voglio stare qua ancora 5 minuti con questa marea di amici vai a letto vai a letto prendi una tisanella dati una calmata e basta 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 io e mia madre ho cominciato mi aiuto mi aiuto mia madre e vai prima nel lavoro dopo ora io farò insomma ho tagliato l'erba ina dal dottore questo qui io voglio ripientarlo qui alla cima questa qui ora vado a aiutarla qui la roba alcuna roba ci mangià di là è tutto disordinato senza tutti gli sparsi con le braccia io e mia madre non ho messo a posto ieri va e ora siamo di lì questo lato qui dopo finiamo con quell'altro lato di là ci mangià di là ma non ho messo a posto espère che che venga oh to be qui ıldı no Grazie a tutti. Non puoi entrare. Entra? Non entra! Entra! Non entra! Entra! Non penso proprio.